L'innovazione trova spazio anche in agricoltura e zootecnia. In una delle aziende che dipendono dall'Istituto Ciuffelli di Todi, si sta sperimentando una tecnica costruttiva ad impatto zero, sia per i materiali utilizzati che per la loro provenienza. Il servizio è di Andrea Chioigni. L'edificio per un frantoio oleario di concezione, tanto antica quanto futuribile. Struttura in cemento armato, tette accapriate in legno e fin qui tutto nella norma. Quando andiamo alla tamponatura delle pareti comincia l'insolito perché la si sta realizzando grazie ad un telaio in legno in cui vengono incastonate balle di paglia, il tutto intonacato con terra cruda. Siamo nel podere Bodoglie di Todi, nell'azienda agraria fattoria didattica dell'Istituto Tecnico Ciuffelli, dove si sta completando la costruzione che ospiterà le attrezzature per la lavorazione delle olive. Iniziata nel 2007 con finanziamenti della provincia di Perugia, rischiava di rimanere uno scheletro vuoto per carenza di fondi. Da qui l'idea di promuovere un cantiere scuola attivo nei fine settimana. Una decina le persone iscritte al corso di formazione. Apprendono teoria e pratica utilizzando le esperienze maturate da Pantarei, il villaggio ecologico sulle colline del Trasimeno. Il tutto monitorato dal Dipartimento Ingegneria Civile Ambientale dei Materiali esistente all'Università di Bologna. Analizzando il costo dei materiali, utilizzando questo tipo di materiali, quindi la paglia e la terra, si riesce a risparmiare fino a un 70%. Nel cantiere scuola di Todi sono iscritti anche alcuni partecipanti del progetto di solidarietà Asilon, frutto della collaborazione di Ciuffelli Caritas e Libera con l'alto commissariato dell'ONU per i rifugiati.